Martedì 9 luglio è stato inaugurato alla presenza del Vescovo Armando Trasarti il nuovo centro per la distribuzione di indumenti dell'Associazione San Paterniano Opera Padre Pio, sito a Fano in via Mura Sangallo, nei locali risistemati per l'occasione e mantenuti grazie all'ammortamento delle spese di affitto da parte degli eredi e dei comendatori Pedinotti. Aperto dalle 10 alle 12, dal lunedì al venerdì, il centro distribuirà vestiario a chiunque in situazione di indigenza ne farà richiesta. Quest'opera però non costituisce un'iniziativa a sé, ma fa parte di un progetto che mette in rete diverse realtà del territorio. Rivestiamo il nome dato a questa collaborazione che vede coinvolti l'Opera Padre Pio, la Cooperativa Gerico, la Cooperativa Italenti ed i vari centri parocchiali fino ad oggi attivi. Il tutto con il sostegno della Fondazione 7 Novembre. Sotto il coordinamento della Caritas Diocesana, questi centri lavoreranno in sinergia potendo contare anche sul supporto di un luogo di smistamento che a settembre sarà aperto nella ex chiesa di Centinarola di Fano.